Ciao, sono Valentina, sono un'ingegnere spaziale, ho studiato alla Sapienza di Roma e adesso sono una coach della palestra dell'innovazione e partecipo al programma di Codighello. Perché hai deciso di fare la coach? Ho deciso di fare la coach perché è importante introdurre le ragazze all'unico informatico e all'unico tecnologico in generale e avvicinarle alle facoltà e agli studi che vengono dedicati all'esterno. Nel tuo percorso di studio, nella tua carriera professionale, hai incontrato discriminazioni, stereotipi di genere? Molti, quindi questo è un motivo importante che mi spinge a coinvolgere altre ragazze e a cercare di spingerle verso le facoltà scientifiche perché è importantissimo superare il divario che c'è attualmente in Italia tra gli studenti maschi e gli studenti gesti femmine in questo tipo di facoltà. La mia difficoltà, vorrei che le difficoltà che ho incontrato io non le dovranno più incontrare altre ragazze. Uno slogan per convincere tante ragazze a fare coding? L'unione fa la forza e quindi dobbiamo impegnarci tutti insieme per cercare di coinvolgere altri ragazzi in questi percorsi.